salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale un prodotto incredibile un drone incredibile il drone più economico che ho mai portato qua sul canale che ho mai provato neanche in vita mia perché comunque un drone così economico non l'avevo mai provato e finalmente adesso è arrivato il momento di provare anche un prodotto di questo tipo e il drone di che sto parlando è questo x1 un drone incredibile è piccolissimo ma super super completo anche troppo completo quasi da essere in reale perché con 27 euro ragazzi link in descrizione abbiamo veramente di tutto e ripeto di tutto adesso poi lo guarderemo da vicino e vi spiego appunto cosa intendo quando dico di tutto perché veramente è super super completo e 27 euro ragazzi è pazzesco pazzesco poi durante il video vedremo se almeno vola perché comunque come cose che ci vengono date davvero tanta roba ha bisogno anche vedere se vola e come vola quindi ragazzi andiamo ad analizzare il piccolo drone che vi arriva in questa confezione e già questa è una delle cose spettacolari appunto di questo drone perché abbiamo una borsettina antiurto quindi la possibilità di trasportare il drone vedete anche la maniglietta quindi con 27 euro abbiamo pure una valigetta antiurto e già questa è una delle cose diciamo dei plus che ha in più questo piccolo drone super economico poi andiamo a estrarlo dalla confezione guardate quanto è piccolo ragazzi è piccolissimo parliamo di 58 grammi di drone ma poi lo guardiamo meglio da vicino adesso lo accantoniamo un attimo poi abbiamo il radiocomando guardate bellissimo anche lui ovviamente piccolo anche lui anche se più grande del drone perché comunque il drone è veramente miniaturizzato è un altro plus appunto di questo drone che ha tre batterie una la troviamo qua all'interno del drone e andando aprire il vano posteriore delle radiocomando guardate le batterie aggiuntive abbiamo tre batterie incluse in 27 euro quindi guardate spettacolo è spettacolo vero è incredibile è incredibile per fare funzionare il radiocomando occorrono tre batterie tripla non incluse in confezione quelle dobbiamo mettercele noi ogni batteria delle tre date in dotazione danno un'autonomia del drone di circa sette minuti quindi abbiamo circa 20 minuti di divertimento e poi una cosa da non sottovalutare che con il cavetto di ricarica delle batterie in dotazione che poi vi faccio vedere dopo è possibile ricaricarle ovviamente con qualsiasi alimentatore di uno smartphone attaccandolo al pc ovunque noi vogliamo basta che ci sia una presa di usb è possibile anche ricaricarle con un power bank quindi ovunque noi siamo possiamo continuare a ricaricare le batterie in continuazione e avere tanti tanti minuti di divertimento per i nostri figli per i nostri nipoti ma soprattutto per noi quindi andiamo avanti a vedere cosa c'è nella confezione la confezione troviamo questo sacchettino che ha incluso tanti pezzi che guarderemo tra un attimo più da vicino perché ci sono alcune cose che voglio spiegarvi bene poi sempre nella valigetta di trasporto abbiamo il manuale di istruzioni inglese cinese però con tutte le varie figure quindi semplicissimo da capire anche se non c'è la lingua italiana ma che con le figure e disegni si capisce tutto benissimo e poi abbiamo un altro foglio dove ci spiega l'applicazione sì l'applicazione di volo perché ragazzi lui ha una videocamera questa videocamera trasmette all'applicazione dello smartphone quindi abbiamo anche una trasmissione in fpv abbiamo in tempo reale quello che inquadra questa piccola fotocamera guardate quanto è piccola guardate rispetto al mio dito è piccolissima piccolissima è orientabile ovviamente a mano prima di decollare e abbiamo l'applicazione che si chiama wifi cam che è questa di disponibile scanalizzando il qr code vi manda subito alla pagina dove andare a scaricarla sia per ios che per android quindi è tutto semplice o se non la cercate si chiama wifi cam quindi è davvero incredibile ovviamente ragazzi non acquistate questo drone perché ha questa applicazione per avere il ritorno video vi dico già che è quello che è però se pensiamo ragazzi che in 27 euro abbiamo anche questo adesso avete capito perché all'inizio ci tenevo tanto a sottolineare quando vi dicevo che è incredibile quanto è completo questo drone per 27 euro oltre alle cose basi cioè essere un drone con le eliche e un radiocomando abbiamo tre batterie la valigetta di trasporto e addirittura una videocamera che scatta video e foto e ci trasmette tutto in tempo reale nello smartphone quindi ragazzi pazzesco 27 euro questo x1 è qualcosa di incredibile di incredibile io droni così economici non li avevo mai provati perché qua siamo proprio a livello di spesa ridottissima però sono rimasto davvero senza parole quando l'ho aperto e quando ho visto quante cose c'erano poi bisognerà vedere se vola come vola ma questo è un secondo piano l'importante avere tre batterie la valigetta e la videocamera allora andiamo a vedere il tutto da vicino iniziamo da quello che contiene il sacchetto come avevo detto all'inizio nel sacchetto abbiamo varie accessori allora abbiamo il cavetto di ricarica che appunto serve per ricaricare le batterie poi abbiamo le eliche di ricambio il cacciavite per sostituire le eliche poi abbiamo questi semplicissimi ma utilissimi paracolpi che andiamo a montare ovviamente sui bracci per proteggere le eliche e il drone quando va a sbattere sono leggerissimi super piccoli però fanno il loro lavoro e poi abbiamo una cosa interessante che da quello che volevo farvi vedere appunto che è questa vedete che nella confezione troviamo questi cioè una corona e un pignone questo perché perché il drone ragazzi al motori messi in maniera orizzontale quindi non verticali quindi il motore messo in maniera orizzontale e il pignone la corona vanno a dare la motricità alle eliche ovviamente se dovessero danneggiarsi pignone corona basterà aprire queste piccole viti qua sotto e andare a sostituire il pignone la corona in dotazione abbiamo due corone e due pignoncini piccolissimi cioè guardate quanto sono piccoli adesso la tovaglia qua è chiara probabilmente non si vedono bene prendo in mano così riuscite a capire meglio vedete quanto tutto è piccolissimo e miniaturizzato poi andiamo a spostare queste cose andiamo a vedere il radiocomando allora di comando come detto piccolissimo e semplicissimo abbiamo qua i tasti di regolazione del trim cioè per andare a centrare quello che è la stabilità del drone questo perché perché il drone ovviamente non ha un comparto tecnico incredibile ha praticamente solo il giroscopio quindi il hovering il drone farà fatica a stare fermo tenderà sempre a muoversi da qualche parte quindi o in avanti o indietro o destra o sinistra tenderà sempre leggermente a muoversi ovviamente non in maniera veloce ma gradatamente si sposterà e per ovviare a questo con il trim possiamo andare a dargli una regolazione più precisa anche se non sarà mai un hovering perfetto non rimarrà mai fermo immobile poi qua abbiamo i tasti per scattare foto e video qua un tasto di emergenza che se andiamo a spingerlo andremo a spegnere i motori quindi il drone precipiterà ma andremo ad evitare magari qualche danno anche se con un drone da 58 grammi è impossibile fare danni poi qua abbiamo il tasto per avere il drone senza testa quindi che il drone come sapete non ha un davanti e un dietro e poi qua un tasto per dare la direzione al drone poi qua abbiamo altri due tasti che servono per fare i flip perché questo drone in teoria fa anche i flip e poi qua ragazzi guardate ad aprire e c'è lo scomparto per mettere lo smartphone questo perché perché come vi ho detto il drone ha un ritorno fpv nell'applicazione quindi questo è quello che è il radiocomando ma adesso andiamo a vedere lui il dronino x1 ragazzi guardate quanto è piccolo ovviamente ragazzi plastica super economica ma molto economica abbiamo anche due led qua che ci vanno a indicare varie cose o meglio ci vanno a indicare sia quando il drone è connesso al radiocomando che quando andremo a fare la calibrazione del giroscopio che dopo vi faccio vedere come viene fatta poi ovviamente sotto non abbiamo niente qua abbiamo il filo dell'antenna qua abbiamo la piccola batteria qua abbiamo il piccolo foro dove va a inserirsi il jack per andare a ricaricare la batteria quindi vedete che tutto veramente miniaturizzato la telecamera come vi ho detto è una telecamera in full hd potete immaginare che full hd sia però ragazzi è data per un full hd e ragazzi è spettacolare alla forma ovviamente di un mavic con i colori di un autelivo quindi una combo di queste due cose però vedete che non aspettatevi una qualità eccelsa è proprio una qualità veramente scamuzzissima ma ci viene dato davvero di tutto con questi 27 euro e se dovesse anche volare è pazzesco poi come vi ho fatto vedere poco fa abbiamo anche i paraliche protettivi che sono molto semplici da montare sono minimal veramente minimal ma fanno il loro dovere basta andare inserirli in questi due fori che abbiamo qua sono a pressione quindi basterà andare a spingere ed ecco montato il paraliche andiamo a montarli tutti e quattro così siamo più sicuri facciamo un volo in totale sicurezza e ragazzi questi parelli che sono veramente minimal sia nella nelle dimensioni che nel peso ma tutto questo ovviamente per andare a limitare sia per l'ingombro del drone che ovviamente per il peso perché con troppo peso questo drone altrimenti non si alzerebbe nemmeno da terra o magari non si alzano anche con questi staremo a vedere tra poco proveremo quindi con i paraliche abbiamo un risultato di questo tipo ovviamente non siamo obbligati a metterli però sicuramente per volare in casa hanno il loro perché o anche fuori se vogliamo tipo qua dove voleremo adesso sul terrazzo che comunque ci sono tanti ostacoli vengono buoni questi paraliche cosa dire ragazzi ovviamente un drone da usare soprattutto in casa però se è una giornata tipo oggi in cui non c'è una grande aria si può utilizzare anche all'esterno però ragazzi stiamo parlando di un drone con dei motori brushed quindi non brushless quindi poco potenti e soprattutto veramente minuscoli perché sono davvero davvero minuscoli non so se li vedete ma sono microscopici e quindi ragazzi con i suoi poi 58 grammi veramente un filo d'aria per lui è un uragano quindi direi che possiamo fare l'accensione per accendere basta cliccare qua sopra quindi prima accendete il drone perfetto vedete che il led davanti flashano quindi a questo punto basterà andare accendere la radio premendo il tasto qua centrale ok vedete che i due led non flashano più perché adesso i due dispositivi comunicano se i led dovessero continuare a flashare e perché il radiocomando non è connesso al drone a questo punto dovremmo fare la calibrazione del giroscopio quindi va messo su una superficie piana come in questo caso su un tavolo e andiamo a tirare i due stick in basso verso destra vedete che i due led flashano ok la calibrazione è stata fatta quindi vedete com'è semplice calibrare l'unica cosa che va calibrata cioè il giroscopio a questo punto non ci resta che decollare per decollare è davvero semplice basta tirare lo stick verso l'alto vedete che i motori si sono accesi e adesso se io dovessi dare gas lui andrà a decollare adesso lo vado a spegnere tirando lo stick verso il basso però vedete che abbiamo armato i motori tirando con un colpo di stick verso l'alto ok verso il basso motori fermi ok una volta fatto tutto questo adesso possiamo andare a vedere qual è l'applicazione da poter utilizzare ovviamente come vi ho detto non acquistato per questo motivo però vi faccio vedere come comunque entriamo nelle impostazioni andiamo nella rete wifi aspettiamo che rilevi wifi 4k che è questo ok una volta connessa andiamo aprire la sua applicazione che come vi ho detto si chiama wifi cam disponibile per ios e per android e vedete che adesso la telecamera del drone stra inquadrando la tovaglia se lo alzo vedete che io ci sono quindi non è che non funzioni funziona ovviamente non è una qualità incredibile ma se pensiamo ragazzi che dimensione a questa videocamera è qualcosa di pazzesco di pazzesco a parte che zoom davvero in maniera incredibile guardate come sono grande all'interno del display comunque a questo punto tutto è pronto per decollare quindi vado a inserire lo smartphone all'interno del supporto perfetto vado a centrarlo un po perché l'ho messo dentro in maniera veramente male ok e a questo punto ragazzi non mi resta che armare i motori e decollare quindi armiamo e decolliamo ok ragazzi guardatelo qua come vi ho detto l'overing è abbastanza precario adesso cerchiamo di andare a centrarlo un po con i trim tende andare un po verso destra e indietro allora con i trim e gli do qualche colpetto in avanti e verso destra vediamo se si è centrato un po no si è centrato niente vediamo ok adesso è abbastanza centrato vedete che sta abbastanza fermo no adesso si è andato a sinistra ovviamente vi ho detto ragazzi questo drone non ha nessun comparto tecnico ha solo un giroscopio quindi è l'overing è inesistente come tutti i droni economici in cui c'è solo il giroscopio è diventa impossibile avere un overing soprattutto poi per lui che i ragazzi costa 27 euro però se lo continuate a pilotare ragazzi è incredibile guardate un guardate fantastico è fantastico il ritorno video lo state vedendo è quello che è ma non è neanche malissimo per avere una telecamera che veramente microscopica e anche quasi buono perché guardate dai se sto fermo è anche quasi decente cioè guardate la videocamera è più piccola del mio mignolo guardate ovviamente se ne va l'overing ve l'ho detto ragazzi non c'è non c'è però è il suo bello perché dov'è il suo bello se non che non sta fermo però vola cioè secondo me il fatto che già voli lo rende un drone incredibile adesso gli ho dato quasi un over regolato i trim sta quasi un po più fermo lo tende sempre dopo un po a partire verso sinistra è fantastico è ovviamente non è facilissimo a pilotare per il fatto che tende sempre a avere un movimento la cosa è che è molto sensibile agli stick e soprattutto non ha molto una via di mezzo nelle prestazioni come si tocca lo stick vedete com'era t come è subito cattivo e questo ragazzi lo complica un po la vita per il fatto che non avendo appunto è un hovering niente come si tocca per correggere parte dalla parte opposta di dove vogliamo correggerlo e questo è sicuramente non bello appunto perché diventa un pochino complicato pilotarlo però ragazzi se pensiamo che costa 27 euro è incredibile è incredibile guardate che roba è incredibile incredibile abbassiamoci no no stavo andando a sbattere torniamo in qua facciamo un atterraggio adesso atterraggio vediamo se riesco a atterrare atterraggio non sul cavalletto atterraggio perfetto atterraggio perfetto il drone è bello è fantastico ovviamente nei suoi 27 euro è che avete acquistato il drone della vita anzi però secondo me la cosa più fastidiosa che ha è questa super sensibilità che si ha negli stick quindi il drone tende sempre quando si tocca lo stick per correggerlo appunto perché non avendo un hovering bisogna sempre correggerlo per riportarlo nella posizione che vogliamo e anche un movimento piccolo gli dà diciamo un'accelerata brusca al drone sia in avanti indietro che lateralmente o su o giù nel senso che se il drone tendeva andare verso sinistra non lo ricentreremo ma lo faremo andare verso destra stessa cosa avanti indietro su e giù questo è davvero un peccato perché se avessero messo una regolazione diversa dei joystick la risposta meno cattiva dal punto di vista appunto del movimento sarebbe stato sicuramente meglio anche perché in casa diventa ancora peggio che qua fuori perché comunque qua fuori abbiamo più spazio in casa abbiamo ancora più ostacoli e questo sicuramente va a limitare quello che è diciamo la fluidità di movimento di questo drone che resta comunque incredibile perché ragazzi parliamo di un piccolo drone che pesa 58 grammi costa 27 euro 3 batterie valigetta ritorno video avete visto il ritorno video comunque non ho scattato foto e video perché comunque sarebbero state quello che avete visto nello smartphone e comunque lui registra il ritorno video che ha nel telefono non è che c'è una micro sd quindi la qualità è quella che avete visto nello smartphone quindi ragazzi sono davvero contento di aver portato questo piccolo x1 qua sul canale il drone più economico mai provato da me e sono davvero contento di avervelo portato di avervelo fatto conoscere perché è incredibile a che punto sia arrivati con questi droni anche dal punto di vista economico per quello che ci viene dato ovviamente qua sul canale ragazzi avete visto tante cose porto tantissime cose qua sul canale però tantissime sono i droni che porto qua sul canale è arrivato davvero di tutto arrivano droni di ogni tipo ma di questo livello di questa fascia di prezzo ragazzi non avevo mai portato assolutamente niente ma sono contento di averlo fatto perché è bello provare anche queste cose estreme non solo in eccesso cioè cose alla dj per intenderci ma anche in eccesso dal punto di vista dell'economicità e questo ragazzi è sicuramente il top da quel punto di vista perché meno di così con tutto quello che ci viene dato è impossibile quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questa mia prova questo mio test e questa mia recensione di questo piccolo x1 drone da 58 grammi da 27 euro vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante nuove tante prime spoiler stampe 3d voli in fpv sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3g offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un'accensione un testo un tutorial una novità come questa ciao